Essere qui per me è un privilegio che debbo alla illuminante, faticosa, ma di uturna, sforzo che fa un signore che si chiama Michele Murino e tutti coloro che lo assistono in questo bellissimo percorso perché l'Italia ha bisogno di queste testimonianze alte, di queste testimonianze tese a preservare il patrimonio, a preservare la bellezza e in questo caso del Cilento e poiché io sono cilentano sono doppiamente felice di trovarmi qua e quindi questo sodalizio che l'altrano abbiamo appena appena inaugurato, quest'anno si sostanzia di tre partecipazioni piuttosto importanti con forse il più grande attore che il nostro paese può vantare che è Roberto Erlitska che farà un escursus di grande raffinatezza e leggiaca su Lucrezio perché interpreterà brani del Dererum Natura. Poi avremo un'attrice fra le migliori delle nuove generazioni che è Daniela Giovanetti che si cimenta su un testo di Claudio Magris, se le dunque capirà, che è la rivisitazione del mito di Euridice cioè è una Euridice dei nostri giorni che patisce una grandissima e dolente storia d'amore scritta questa bellissima storia da Claudio Magris e come tutti sanno è a sua volta uno dei grandi scrittori del nostro paese un opinion maker che sul Corriere della Sera ci indirizza alle volte con grande saggezza. Ed infine una conversazione su Dioniso, questa figura emblematica, misteriosa che ha caratterizzato tanto la fantasia religiosa dell'antichità che in un primo tempo si pensava fosse nata intorno al VII secolo a.C. ma che in base a studi più recenti abbiamo capito che invece addirittura proviene dal periodo minoico-miceneo proviene proprio da Creta, quindi dal 2000 a.C. e con Dioniso parleremo della grandezza del mistero di questa divinità con Giorgio di Ranò che è un grecista di raffinata bravura che è uno dei più grandi interpreti del mito di Dioniso ebbene questi tre appuntamenti sono per me un viatico perché nell'incessante procedere del nostro lavoro che è sempre più in qualche modo deprivato dell'afflato della gioia di vivere la cultura antica è come ritrovarsi con le grandi testimonianze di personaggi, leggende, miti che forse rievocati sapientemente ci possono ancora oggi confortare grazie a tutti grazie a tutti